Conducenti illesi e una passeggera ferita, comunque non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale accaduto domenica allo scoccare del mezzogiorno a Dorgiano, in aperta campagna, all'altezza di un incrocio. A scontrarsi all'altezza dell'intersezione tra via San Feliciano e via Stazione, due auto rendendo necessario l'invio sul posto di un'ambulanza del SUEM e i vigili del fuoco, una pattuglia di carabinieri. Se per i rispettivi guidatori non c'è stato bisogno che di medicazioni operate sul posto, per una donna seduta sul lato passeggero anteriore si è deciso per l'invio in codice giallo in ospedale per accertamenti. La donna ferita è stata accolta al pronto soccorso del polo di Azzignano. Le squadre di vigili del fuoco giunte a Dorgiano si sono occupate del primo soccorso per dedicarsi subito poi alla messa in sicurezza del tratto di strada.